Ciao, sono Giulio Bisegni e sono onorato di ricevere il premio Iron Man Award del Guinness Pro 14 per essere stato il giocatore più utilizzato nella stagione 2017-2018 con 1.504 minuti. La scorsa stagione è stata molto positiva per me e per la squadra. Le 7 vittorie in campionato rappresentano un record per la storia della franchigia. Voglio ringraziare lo staff tecnico e lo staff fisico per la fiducia dimostrata nei miei confronti e tutti i miei compagni. Sono molto orgoglioso di tutti loro. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova stagione. Con le zebbre vi aspetto al 31 agosto allo stadio Lanfranchi di Parma pronti per iniziare una nuova avventura.